Le quattro mura di casa sono sicure? Sembra una domanda banale e tutti subito pensano alle inferiate, ai dispositivi di allarme e alla possibilità che qualcuno possa entrare nella pace domestica per provocare danno. L'insicurezza è effettivamente palpabile, ma non tanto per l'incursione dei ladri piuttosto che di animali, ma per i continui incidenti provocati da elettrodomestici piuttosto che semplicemente da banali distrazioni. Così emerge che in casa i più soggetti al pericolo sono le donne, poi gli anziani e i bambini. Le casalinghe detengono in Italia il primo posto per incidenti e le statistiche quantificano in 3 milioni e mezzo ogni anno, secondo una recente rilevazione Istat. Solo nel 2017 sono state 7.338.000 le donne che sono state dichiarate casalinghe e negli ultimi anni sono però diminuite di 518.000 unità in soli 10 anni. Le casalinghe coinvolti in incidenti domestici sono state 8,2%, la cucina è il luogo più a rischio con un 63% degli incidenti. Poi c'è la camera da letto con il 10%, il salotto con il 9% e le scale con l'8%. Da questi dati ne emerge un altro, quello che fa sottolineare come il lavoro delle casalinghe sia non certo facile e soprattutto particolarmente pericoloso. Dopodomani è l'8 marzo, non dimentichiamolo.